Gli Alice Dreams! Salite ragazzi, potete sistemarvi, grande Daniele! I Sex Pistols! Allora, loro c'erano già l'anno scorso con noi, è un gruppo che nasce nel 2005 e l'ha costituito lei, perché io so che l'hai scritto tu questo e quindi è un gruppo che nasce da me No, da me e da lui Esatto, voi due Così si sviluppa nel 2005, avete fatto tante cose Concerti in Genova, Modell, San Marino, ovviamente Avete visto la il festival anche l'anno scorso Esatto, esatto Io sento una roba strana, che cos'è? Oh Dio, guardate, guardate Che moto è quella? Allora il vostro cantante Esatto, guardate per voi Un applauso a Guido Motorrock La lasci lì così? Parcheggio strano? Bravo, complimenti Lasci lì così Ti devo mandare uno, un parcheggiatore che te la tenga Ah, il parcheggiatore è privato proprio Vuole il microfono perché deve dire qualcosa di importante Vuoi questo? Eh, questo Il nuovo modello di Kinker Davidson Questo qua, progettato Scusa, ripeti Il nuovo modello di? Kinker Davidson Kinker Davidson Kinker Kinker Bellissimo Lo sono andato bene a ritirare Il nuovo di pacca Eh, scusa Ah, il nuovo, veramente Motore potentissimo vedo Sì, no Un 500cc Togli 1.0 Cavolo, ma questa Sai questa qua Domani facciamo Un raduno di moto d'epoca Su in alto Devi venire con quella Perché Non le ho mai viste così E poi è originale Eh, no, no Artigianale Artigianale a tutti i pezzi Bene Va bene, allora comunque È una Kinker Davidson Originale Senti, allora Intanto Si preparano al palco Quanti pezzi fatti Che posso fare la ricotta e guido? Che loro si sono andato Si organizzano Quanti pezzi fatti per la vostra performance E come si chiama il vostro genere Allora Non è un Kinker Rock No Solamente la moto Kinker Davidson Kinker Rock E diciamo che Come Rock Si cerca di Avvicinare tutti i gusti personali Perché siamo totalmente diversi Chitarrista Punk La bassista invece È molto dark Stile Joy Division Molto anni 80 Il batterista Beh Abbiamo avuto una prova con Michele Fatto il crew A vita E qui abbiamo un insieme Di un'attrice musicale Esatto Si denota già Tu si sta scaldando Allora come siamo messi Ci siete già Voglio ricordarvi che Visto che Già ne ho accennato La moto te l'hanno portata via Però comunque domani Domani alle 8 C'è un bellissimo raduno Di moto d'epoca Che facciamo sempre nell'ambito Della 36esima Appuntamento con La festa dell'amicizia Siamo su in alto Se la vuoi portare Quella moto lì È originalissima Ci vuole Guarda Adesso la portiamo Che forte Va bene Allora intanto che si scaldano Come va Daniele Sei pronto Alla grande Grande applauso per Hell's Dream Un cielo Lì Un Elena Unfort Un unused Unني Un marsh jDIA Sol terra Un Un Utter Un 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 Grazie a tutti.